Città congestionata nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno, in piena ora di punta in via miniera di Ivrea esplosa una tubatura fognaria. Sul posto sono intervenuti i tecnici SMAT e la zona è stata transennata e chiusa al traffico. Lunghe code si sono formate sia dalla pedomontana verso Ivrea sia verso portaosta e banchette. I lavori di riparazione sono ancora in corso. Grazie.